Fuori servizio da giovedì scorso con i pazienti costretti a sospendere la terapia. E' quanto si sta verificando da giovedì scorso nel reparto di radioterapia del polo oncologico del Vitofazzi di Lecce a causa della rottura di uno dei due acceleratori lineari in dotazione, quello di ultima generazione, a determinare la sospensione del trattamento quotidiano per circa 50 dei 90 pazienti in cura, con lo smistamento di una quindicina per inizio terapia alla Clinica Città di Lecce convenzionata con l'ospedale. Si tratta del terzo acceleratore lineare avanzato in Puglia, costato circa 1.400.000 euro, il primo ad essere entrato in funzione nel 2000 e aggiornato nel settembre 2009, a cui in futuro se ne dovrebbe aggiungere un secondo come già previsto. Un guasto non da poco, causato dalla rottura delle guarnizioni della tenuta del vuoto della guida d'onda, del GAN, il generatore di elettroni e dell'alimentatore delle pompe, a necessitare così la sostituzione di più pezzi in arrivo dall'Olanda e che una volta sostituiti garantiranno entro lunedì prossimo il ritorno alla normalità. Ovviamente è un grosso disagio psicologico per i pazienti perché interrumpendosi una cura pensano che possa compromettere il loro trattamento. Questo in parte è vero ma noi sappiamo che poi recuperiamo interamente la dose da dare al paziente e compensiamo anche eventuali mancanze per questa interruzione alla fine del trattamento. Quindi devono stare tranquilli, noi riusciamo a compensare il tutto.